Insomma, abbiamo raggiunto il quorum. E se lo doveva aspettare Berlusconi, la gente si è ritirata, i giovani, i bravi ragazzi, cercati a andare sempre avanti così che questo se ne è dannato, questa bocca. Una la presa, degli ieri l'altra, ma la terza se la pia ancora perché è da vedere come va a finire, e vedi che il 19 e il box, la stu, poveri di se se ne va perché ci ha levato tutto, ci ha levato tutto, si è venuta tutta l'Italia, a cosa si è fattevile, vieni qua te, vieni qua, hanno battuto me, si è chiesto di andare da qua, lo sai che gli ho detto a Galimberti che il pago più accaduto ne ho mandato pure a quel paese. Che che ha fatto? Ha detto Santoro perché mi hanno levato, io ho detto leva il pio dei Mussolini, quello che sta su qui, perché non voglio pagare più, poi c'è pure quello che sta in mezzo alle sezioni, quello che prima fa là, che si va senza me. Comunque rimangono tutte e tre, Tandini, Sazio e Slot, però Santoro ancora non è finita, ancora non è detto. perché c'è una commissione che sta... Sì, ancora bisogna vedere se non è finita. Ma io vedo il dì, stavo a Piazza del Popolo, c'erano tutti, ma tu non c'eri. Ma lui rimane, 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 rimane pazzo. Sì, 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 sì. Sì, vieni via con me che hanno deciso di farlo fare? No, c'è, c'è, sì, sì. Wow, questo non è arrivato. Solo Santoro bisogna vedere. A Piazza del Popolo, c'è una linea di vita diversa. No, è bella lei, è bella di casa. Oh, è bella, è bella di casa. Senta, mamma mia, bella di casa. Non lo sa, è soppiata stavolta. Non so il termine inglese. Non so il termine inglese. Grazie.